La Chiesa in Marocco è molto impegnata nella vicinanza ai migranti. A me non piace dire migranti. A me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo. In cambio, persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Usiamo tanti aggettivi e dimenticiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona. Cioè, migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto, per non cadere in questa cultura dell'aggettivo che è troppo liquida, troppo gasosa.